Ritornano all'attenzione dell'Aula le disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa del settore terziario e per la sua incentivazione, ovvero il disegno di legge numero 129, la cui discussione generale era già avvenuta il 25 febbraio scorso, quando erano stati messi in luce i due punti focali del provvedimento. Una nuova regolamentazione delle aperture e dei punti vendita. Si stabiliscono infatti nuove festibilità di chiusura obbligatorie, il 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 e 26 dicembre, mentre un emendamento del centro-sinistra aggiunge almeno 10 domeniche da individuare da ciascun comune. La riorganizzazione dei centri di assistenza tecnica o CAT e la previsione di un centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario, CAT FWG, ma non da meno lo sviluppo del terziario negli ambiti del turismo, strutture eccettive e consorzi, nonché la previsione dei centri commerciali naturali quali punti vendita dei prodotti locali. Dopo le repliche dei relatori, Renata Bagatin, Alessio Grattonna di maggioranza, Luca Ciriani e Cristian Sergo di minoranza, c'è stata la risposta della giunta regionale con l'assessore Sergio Bolzonello, che ha parlato di testo unico del commercio che sarà scritto per ottobre e novembre con la revisione completa della legge regionale numero 29 del 2005. Ma qui ha spiegato che sono risposte a domande già abbozzate con la legge di stabilità dello scorso dicembre. Sul tema delle aperture festive ha aggiunto non si è giocato su due piani, non si fa alcun passo indietro. Avevamo lasciato da subito all'aula la decisione sulle aperture chiusure di domenica. L'impostazione è stata scelta dai gruppi di maggioranza e presentata tramite emendamento. Il passaggio importante che non va sottovalutato è quello innovativo del CAT FWG.